Ed eccoci ritornati con Mattina Live, linea alla scuola, questo percorso di formazione che lega Mattina Live alla Fondazione Cultura Innovazione che avvicina i ragazzi al mondo del giornalismo e della comunicazione, dalla penna alla televisione. Con noi oggi i ragazzi dell'Istituto Attilio Romano di Napoli, organizzatisi in redazione con il tutor Raffaele e De Lucia che approfittiamo per salutare. E saluto dunque anche il docente che è qui con noi in rappresentanza dell'Istituto, Antonello Ascione, buongiorno. E poi tutti i ragazzi che sono in rappresentanza appunto dell'Istituto Attilio Romano, Rosa Perrotta, Chiara Ciletti, Naomi Aiello, Carmen De Lucia e Patrizia Lamarca, buongiorno a voi. Dunque inizio proprio dal vostro professore. Sono stati tre incontri, professore Ascione, molto intensi per questi ragazzi che si sono approcciati ad una nuova esperienza. Che tipo di lavoro è stato? Che esperienza è stata? È stata un'esperienza che ha coinvolto tutto l'Istituto perché hanno fatto delle attività in cui la totalità dei ragazzi dell'Istituto, siamo più di 800 alunni, hanno visto, si sono chiesti che cosa staranno facendo mai in Aula Magna. E quindi la partecipazione attiva, lo sviluppo di nuove competenze, lo sviluppo di attività nuove in un contesto particolare quale voglia essere la nostra scuola che raggruppa una serie di indirizzi trasversali che vanno dall'Istituto Tecnico al Professionale Moda, all'Odonto Tecnico, agli operatori sociosanitari. Quindi tutti hanno partecipato attivamente a questi tre giorni e la curiosità bella di tutti è proprio quella. Oggi andate in diretta, che portate di noi? Assolutamente sì. Allora andiamo subito dalle ragazze. Rosa, nel corso di queste tre lezioni avete capito che cosa significhi quindi essere una redazione televisiva. Ti è piaciuto questo progetto? Sì, sì, sì. Infatti per noi è stata una cosa importante. Infatti abbiamo scoperto il mondo della tv, che oggi siamo qui grazie mille a voi. E nulla, siamo molto emozionate perché è un'esperienza molto importante per noi. Allora andiamo da Chiara. Che cosa ha significato per te essere parte di una redazione televisiva? È stato bello? Sì, è stato molto bello e mi è piaciuto anche tanto partecipare insieme anche ai miei compagni. Anche lavorare quindi in gruppo? Sì, relazionarmi anche con tutto l'istituto. Sì, perché questa è un'altra specettatura di questi progetti. Il lavoro di squadra e il lavoro di gruppo che poi è fine ovviamente alla comunicazione e al giornalismo. Naomi, avete anche prodotto, so, un videogiornale, giusto? Sì, ci siamo anche divertiti molto a produrlo. Abbiamo conosciuto cose nuove che non sapevamo. Allora a questo punto l'abbiamo nominato, direi di vederlo il vostro personale videogiornale. Buongiorno, sono Carmen Da Lucia. Buongiorno, sono Sila Bragone. Bentrovati all'edizione del TG Romano. Apriamo il giornale parlando di cronaca. Omicidio per gelosia a Secondigliano. Per noi, sul posto l'inviata Paola De Lucia. Grazie per la linea, Carmen. Siamo a scuola nell'aula magna dell'Astile Romano, dove pochi minuti fa una donna, Rita Morra, ha ucciso a coltellate il proprio compagno Gennaro Iumine, di anni 20. Secondo quanto si apprende, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite per gelosia. In questo momento la polizia sta portando via l'assassina. Stronza! Continuiamo il giornale con la pagina di politica. Quale futuro per le vele di Scampia? Il nostro Luca Longa l'ha chiesto all'assessore lavori pubblici Mario Ferrara. Siamo in compagnia dell'assessore Mario Ferrara. Assessore, quale sarà il futuro delle vele di Scampia? Le vele di Scampia verranno abbattute, al loro posto verranno parchi, campi da calcio, altre nuove cose, insomma un quartiere nuovo. Ringrazio l'assessore Mario Ferrara, vi ridò la linea. E adesso la pagina dell'enogastronomia. A Secondigliano la Sagra degli Antichi Sapori, a raccontarci i piatti della serata il nostro Pietro, in compagnia della chef Stefania Mele. Grazie per la linea. Oggi siamo qui a Secondigliano per la Sagra degli Antichi Sapori. Con me a raccontarci le vietanze lo chef Stefania Mele. Stefania, cosa assaggeremo questa sera? Questa sera per gli ospiti tanti piatti tipici, dal palchero al ragù, alle polpette, al tiramisù. Io ringrazio la chef e se non ci sono altre domande restituisco la linea. Parliamo adesso di medicina. Le nuove frontiere della medicina dentistica. A intervistare il dottor Diego Dalani, la nostra Giulia Filardi. E siamo qui nel laboratorio dell'Attilio Romano con il nostro tecnico Diego Dalani. Quali sono queste nuove tecniche innovative che state sperimentando? Questo è un occlusore, una tecnica in analogico. Invece qui possiamo vedere i nostri macchinari in digitale, cioè la nuova frontiera dell'odontotecnica. Ringrazio il dottor Dalani e restituisco la linea allo studio. Settimana della moda a Parigi. In passerella la stilista napoletana Francesca Capovalle a raccontarci la sua sfilata all'inviata Patrizia Lamarca. Grazie per la linea. Siamo qui con la stilista napoletana Francesca Capovalle che ci presenterà la sua nuova collezione alla sfilata di Parigi. Francesca, che collezione hai presentato? Ho presentato una collezione mista dove la semplicità si fonderà con la formalità e vedremo vari tipi di abbigliamento tra formale e informale. Ringrazio la stilista Francesca Capovalle. Vi restituisco la linea, ma prima vi faccio vedere un pezzo della sfilata. Grazie a tutti. Continuiamo il giornale parlando di sport. Titolo nazionale in ginastica ritmica per la nostra campionessa Chiara Ciletti a intervistare il nostro Emanuele Tamburrino. Siamo con Chiara Ciletti che ha appena vinto il torneo in ginnastica artistica. Chiara, quando è stato difficile vincere la gara? È stata una gara molto dura, l'ho preparata per tanti mesi. Alla fine, grazie al sostegno del mio allenatore Luigi Lanzuise, ce l'abbiamo fatta. Ci trasferiamo a Los Angeles, dove il nostro Francesco Sacco intervisterà in esclusiva la stella emergente della musica napoletana, Naomi Aiello, che si esibirà stasera alla consegna degli Oscar. Ciao da Los Angeles, siamo qui alla serata degli Oscar con Naomi Aiello. Naomi, questa sera è una grande emozione per lei. Sì, per me questa sera è una grande emozione, anche cantare qui davanti a questa platea è spettacolare. Ringrazio la nostra ospite e passare la linea allo studio. Prima di salutarci, le previsioni del tempo. Salve a tutti, la giornata di oggi prevederà un cielo poco nuvoloso e con lievi raffiche di vento. Sarà dalla giornata di domani che le temperature torneranno a salire. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con le nostre informazioni. Arrivederci. Arrivederci. Ragazze, complimenti davvero per questo vostro videogiornale. Carmen, quindi un ruolo da protagonista. Mi è piaciuto tanto fare il ruolo da conduttrice. È stata un'esperienza nuova. Un'esperienza nuova per tutti in realtà, perché non avevamo mai fatto un'esperienza del genere. Quindi ci è piaciuta molto e ci ha fatto molto piacere. Ti aspettavi questo lavoro da questo progetto specifico? No, non mi aspettavo di venire qui. Però è un'esperienza che comunque secondo me vale la pena fare. Cioè ci è piaciuta e ringraziamo anche il nostro registra che ci ha aiutato e che ci ha dato questa opportunità. Allora, Patrizia, c'è un aspetto di questa esperienza? Uno su tutti che hai preferito? No, perché devo essere sincera, mi è piaciuto tutto a 360 gradi. Ovviamente ognuno di noi ha svolto una parte diversa. E ovviamente la mia moda, il giornalista di moda, perché studio moda, quindi ognuno ha avuto una parte specifica, una parte molto divertente. Ci siamo divertiti tutti quanti a vedere gli altri interpretare la loro parte, impegnarsi e nulla questo. E quindi vi siete divertiti, però avete effettivamente anche lavorato, perché poi il prodotto che si è visto vuol dire che dietro c'era del lavoro, il professor Ascione, quindi un'esperienza, come diceva bene Patrizia, a 360 gradi per questi ragazzi. Sicuramente, diciamo portare avanti una struttura complessa, come vuole essere un istituto tecnico e un istituto professionale, che grazie alla nostra dirigente, la professoressa Guangi, e il team e i docenti tutti, ma fondamentalmente i ragazzi e le loro famiglie, ci ha portato a creare un qualcosa di nuovo per dare un ventaglio di nuove opportunità, di nuove possibilità. Cioè, di far sì che i ragazzi non abbiano paura del nuovo, perché la scoperta del nuovo, delle nuove esperienze, comunque, in ogni caso, ci arricchiscono. E quindi avere a che fare con un patrimonio importantissimo, quale voglia essere quello dei ragazzi, di tutte le età, perché noi dai 14 ai 18 anni, 19 anni che vanno via... E coprite tutta la fase dell'adolescenza. Quindi più cose si danno da fare, più cose si riescono ad apprendere, perché uno dei slogan, diciamo, della nostra scuola è fare per far fare. Ed uno slogan bellissimo, che racchiude veramente tutto il concetto della scuola. Rosa, vi piacerebbe un domani essere parte di una possibile redazione televisiva? Sì, a me piacerebbe tantissimo. Infatti tutto questo mondo per noi è uno spettacolo, davvero, perché essere qui, vi ripeto, è stata un'emozione pazzesca. Anche essere qui con le mie amiche è stato bellissimo. Una bella esperienza, quindi. Chiara? Sì, anche a me piacerebbe molto, devo dire la verità. Quindi la prendereste proprio come una possibile opzione lavorativa? Sì, certo. Naomi? Sì, anche a me piacerebbe molto, anche perché mi sono divertita. Però ci ho pensato solo dopo aver fatto questo telegiornale. Quindi prima non era assolutamente una tua scelta possibile, adesso dopo questa esperienza hai aperto la tua mente, le tue prospettive, qualcosa di nuovo. Ed è questo proprio il punto, il fulcro di questi progetti, ragazzi. Carmen? Sì, anche a me. Devo dire che prima di questo progetto e di questa esperienza avrei detto di no. Però secondo me è una cosa molto bella, cioè mi piacerebbe molto farla. Io sono contenta che vi è piaciuta. Patrizia? Sì, io anche perché, anche prima di questo progetto, una delle scelte che stavo valutando dopo la scuola era appunto intraprendere la carriera di giornalista, non specificamente nell'ambito della moda, però proprio diventare giornalista, anche perché pensavo che, penso tuttora, che sia un lavoro molto dinamico e soprattutto che ci regala giorno dopo giorno tante emozioni, perché ovviamente i giornalisti viaggiano e conoscono tutto, conoscono tante cose. È un lavoro molto in itinere. Allora, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia questa mattina, quindi ringrazio in primis il vostro docente, il professor Ascione, e poi Rosa, Chiara, Naomi, Carmen e Patrizia qui in rappresentanza dell'Istituto Attilo Romano di Napoli. E salutiamo anche il tutor Raffaele De Lucia.